I siti di 16 banche italiane sono stati presi di mire dagli hacker filorussi di no name per fortuna pochi danni concreti solo alcuni disservizi temporanei per gli utenti. Usata una tecnica già collaudata in passato, invio di un'enorme quantità di richieste al sito web obiettivo dell'attacco che non è in grado di gestirle e quindi di funzionare correttamente. A supporto dei tecnici informatici degli istituti di credito è scesa in campo anche la speciale unità per la sicurezza cibernetica della polizia postale.